Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 11 giugno, vediamo che cosa c'è sui giornali, ci sono parecchie cose molto interessanti secondo me. La prima riguarda i famosi stati generali di Conte, la notizia la dà oggi in prima pagina in maniera più visibile rispetto agli altri giornali il Corriere della Sera dice che il no del centrodestra a questi consigli generali che saranno una grande chermesse di cui si sa soltanto una cosa, che saranno ufficiate a Villa Doria, Panfili a Roma. Poi non si sa bene chi ci andrà, ci arriverà la BCE, ci arriverà Sassoli, sai che grande zuppa non di Porro ma di Conte che si potrà vedere in questo tipo di stati generali per 10 giorni, mi pare che non abbiano, secondo le tronache dei giornali di oggi non aprano più venerdì ma sabato, su questo ho cercato di scrivere qualche cosa sul giornale, tra poco ovviamente lo metterò anche sul sito, però la cosa fondamentale è che questi stati generali sembrano una grande chermesse in cui mi sembra incredibile, in un paese in cui noi abbiamo promesso, lo ha detto Tridico, di pagare la cassa integrazione a 420 mila persone e non un milione che sono quelle a cui ancora manca entro venerdì, questi si occupano di fare 10 giorni di stati generali e noi siamo lì che aspettiamo per esempio le scadenze fiscali del 16 giugno, di cui una proposta della Commissione Colau vorrebbe il rinvio e noi gli stati generali non li finiremo prima della fine delle scadenze elettorali, questi sono pazzi da legare, secondo me non si rendono molto conto di quello che sta avvenendo nella città e nel paese. Devo dire che Becchis oggi una interpretazione molto interessante sul tempo la dà perché Conte ieri dopo una conferenza stampa con i giornalisti, sempre molto napoleonica più che Luigi XVI, va a farsi un giro per prendersi un caffè a Via del Corso e si becca una selva di fischi, insulti, forse si rende un po' conto che non c'è soltanto l'applauso di Casalino, ecco non è solo Casalino che dice bravo come, il pezzo di De Filippi di ieri era stupendo secondo me sul mio sito. L'altra cosa però, permettetemi di dire, sulla quale io sono in totale disaccordo con i giornali di destra, ma sono totalmente d'accordo con la linea governativa, è questa cosa che i PM di Bergamo convocano, la Morgese, Speranza e Conte come persone informate sui fatti riguardo alla predisposizione della zona rossa ad Alzano, insomma nella Bergamasca. Vedete, Rizzo oggi sulle pubbliche dice che si è passati dalla fase 1, la fase 2 è la fase scarica a Baradire, quella zona doveva fare Fontana, quella zona Fontana dice doveva fare il governo, il governo dice doveva fare Babbo Natale perché c'è un decreto che prevede… Insomma, a parte le meschinità del governo che ributta sulle regioni delle responsabilità, io continuo a dire che la responsabilità non può essere sindacata da un procuratore della Repubblica Italiana, che questa si chiama politica e che se noi pensiamo che Conte abbia sbagliato non lo votiamo, quando mai andremo a votare, quando il suo partito, se e come si formerà, o se pensiamo che sia stato Fontana non lo votiamo. Io sono basito dall'idea che i giornali di destra e di sinistra non difendano oggi il processo, anche se in formato dei fatti, la convocazione di Conte e dei ministri, come io mi sento di difendere Salvini dal processo di sequestro di persona. Sono la stessa, identica cosa! Salvini non è processabile e Conte non è processabile per la zona rossa di Alzano. È una cosa che fa parte dell'ABC, secondo me, della politica. Invece siamo qua tutti quanti che siamo garantisti quando si parla degli amici nostri e siamo, come possiamo dire, godiamo quando Conte va in procura. Tra l'altro è la procura, oggi è molto chiaro che vada Conte, cioè ovviamente la procura che va a Roma. Evitate, cari magistrati, di mettere sotto, di sentire il Presidente del Consiglio, di sentire il Ministro degli Interni, di sentire il Ministro della Salute, Speranza, Lamorgese e Conte hanno, semmai, sbagliato politicamente, ma non c'entra un cazzo, niente, la questione giudiziaria. E questo è quello che avviene in un paese normale, non in un paese in cui comandano i Palamara. Questo è il concetto. Ma comunque, andiamo avanti. A proposito di intercettazioni, di altre vicende, di magistratura, la verità scopre che c'è soldi a Renzi e c'è un'inchiesta su questi soldi a Renzi. Nel frattempo mi sembra di aver capito, ad esempio, che il gran pasticcio delle intercettazioni e delle vicende che riguardavano un altro Renziano su cui abbiamo costruito migliaia di pagine e non mi date a me del Renziano, vi prego, perché io di Renziano ho zero. Ma tutte quelle intercettazioni contro Lotti in realtà si erano sbagliati. Non aveva mai detto le cose per cui Lotti è stato indagato. E le cose per cui oggi Renzi prende la prima pagina delle verità, cioè avrebbe ricevuto 75.000 euro per le sue conferenze attraverso strade e triangolazioni, si tratta di una segnalazione della Banca d'Italia. Anche qui, se a voi fa schifo il fatto che Renzi si metta a fare le conferenze e prende 75.000 euro, non la votate! Ma l'idea che sempre noi cerchiamo un magistrato per distruggere il nostro nemico politico è da paese, secondo me, del terzo mondo. Devo dire che riguardo alla malattia ci sono tre cose che vi devo raccontare. La prima, intervista di Remuzzi, stupenda, io lo adoro, il Dipartimento del Mario Negri. Negli ospedali non abbiamo più da un mese pazienti col Covid e qui siamo ancora, lo leggete sui giornali, alle minchiate! Vi rendete conto che hanno dato il permesso alle discoteche di poter ballare, ma a due metri di distanza? Questi del Comitato Tecnico Scientifico? Io non li voglio processare, non li voglio processare, li voglio prendere a calci nel sedere, li voglio prendere tutti a calci nel sedere, perché sono irresponsabili! A differenza di Conte, sono dei signori nessuno, che stanno là e che ci raccontano e che scrivono dei protocolli per cui muoiono discoteche, taxi, NCC, bar, ristoranti, stabilimenti balneari, maestri di tennis, e ci sono inventati il golf, il golf, che è fatto da una buca, da una buca dove deve mettere una pallina, la buca, lo sapete, l'hanno tappata, perché se entra la palla dentro la buca e uno si piega, potrebbe passare il virus a quello che arriva dopo. Ragazzi, questi del Comitato Tecnico Scientifico e questi protocolli sono da pazzi! E noi siamo zitti e muti qua con la mascherina, c'hanno ragione, potrebbe ritornare il virus, oggi ci sono i giornali che dicono se torna il virus e facciamo il lockdown, il PIL italiano perderebbe il 14%, già abbiamo sbagliato a fare il primo peggio degli altri e oggi invece vogliamo addirittura mettere la paura che ne facciamo il secondo. Criminale, il giornale unico del virus che fatica a morire, muore più facilmente il virus del giornale unico del virus, purtroppo. Wall Street Journal in prima pagina dice che stanno testando tre vaccini in America in quest'estate, Advanced Trial, quindi sono velocissime, andranno su 10.000 persone, 15.000 pazienti, ma probabilmente quest'estate, la cosa che dicono molti scienziati, ma che evidentemente il giornale unico del virus non vuole sentire, non ci sarà più il virus, come non c'è più la MERS, come non c'è più la SARS, come non c'è più tante malattie che purtroppo di questo ceppo scompaiono. Le nuove regole per il ballo mi fanno impazzire. Io sono sconvolto dall'idea che debba ballare a due metri, meglio che non ballo, ma che si debba ballare uno a due metri dall'altro. Nel frattempo voglio dire, voi dite, ma tu te la prendi tanto su questo, ma tu ti rendi conto che sta succedendo nelle giornate? Oggi tutti i giornali parlano del colombo decapitato. Nulla, nulla è peggio dei liberal americani. Nulla, non c'è qualcosa di peggio. E la cosa, io me la prendo con le sardine che si inginocchiano, quando vedo la Boldrini che si inginocchia alla camera, dico, ma questi sono scemi, ma sono niente, niente i liberi nei confronti dei liberi all'americani, niente rispetto ai dirigenti di HBO. Segnatevelo, HBO. Tutti voi avete visto, mi sembra, House of Cards, che era di HBO, mi sembra, non voglio sbagliare, però di questi non si può parlare male, perché sono i padroni della televisione del mondo, altro che Mediaset, Rai, BBC. Queste vanno le serie più importanti del mondo. Sapete che hanno deciso di togliere dal loro catalogo la, come si chiama, via col vento. E sapete perché? Perché dicono che racconta una società razziale. È fatto in una società razziale, in un periodo in cui addirittura i neri non potevano votare negli Stati Uniti, e noi vogliamo cancellare un film che non ha nulla di quello, in cui certo, come spiega oggi Natalia Aspesi, Aspesi in un pezzo su Repubblica, è una follia totale e racconta anche il senso del film. Quindi vi suggerisco tra i tanti pezzi di legge sicuro dell'Aspesi, ma la testa, la testa di quelli che dicono che la statua di Cristoforo Colombo gli devi mozzare la testa, quelli che non vogliono, se ne occupa Sallusti oggi sul giornale, che Montanelli abbia una statua nei giardini italiani, nei giardini di Milano, palestro, e che anche un consiglio del PD lo appoggi. Quelli che, come dice l'Aspesi, non vogliono che HBO abbia nel suo catalogo e trasmetta un film di 81 anni fa, ecco, quella è la genia con la quale non dovete neanche uscire a cena, quella per quale i protocolli dei cazzoni del CTS sono anche troppo laschi. Rispetto a questi, in discoteca non dovete stare a due metri, dovete stare a due chilometri, dovete vivere in un'altra città, anzi dovremmo isolarli, altro che Atlas Shrugged. Bisognerebbe prendere una città e mettere tutti insieme quelli che si inchinano e nel frattempo cosa fanno? Mentre si inchinano si fottono un Rolex, quelli che tagliano la testa a Cristoforo Colombo, quelli che non vogliono Montanelli, quelli che hanno deciso questi deficienti. Io voglio conoscere il deficiente che mette la faccia sulla scelta di HBO di cancellare il film dalla sua catalogo. Quello è un cretino! Come spiega bene Cipolla, come i cretini sono in percentuale fissa indipendentemente dal lavoro che svolgono. Veramente io lo voglio conoscere, questo dirigente di HBO, questi dirigenti di HBO che hanno deciso che non deve essere fatta. Fantastica! Come sempre, il Fatto Quotidiano ha preso di miro Simon Tacchi. Simon Tacchi, dovete sapere, è quello che sta all'interno dello studio Erete, il potentissimo studio Erete, è un commercialista molto abile, molto bravo, molto ammanicato a Milano, che non solo è presidente dello studio Erete, non solo è un grande, diciamo uomo d'affari, ma ha fatto sostanzialmente con banca intesa prendere a Cairo il Corriere della Sera, è nel Consiglio di Amministrazione il Corriere della Sera, un giuro sì, un giuro no, viene intervistato dal Corriere della Sera e qualche volta il Corriere si dimentica di dire che nel suo Consiglio di Amministrazione viene nominato da Cairo, scusatemi, non da Cairo, ho detto male, da Conte nella Commissione Colau, oggi scopre il Fatto Quotidiano, lo scrive il Fatto Quotidiano, che Simon Tacchi si sarebbe occupato delle questioni del Patent Box, che si dovrebbe estendere, una cosa complicata che non vi sto neanche a dire, di tipo fiscale finanziario, ma chi è il più grande aspetto di Patent Box in Italia? Simon Tacchi e lo studio Erete, ed è nelle proposte della Commissione Colau, e le due cose le mette insieme il Fatto, e viene da sorridere. Nel frattempo, sulla Cassa Integrazione, stati tranquilli, dovrebbe arrivare tutta per venerdì, ci ha detto Tridico, ma nel frattempo invece, il sole 24 ore calcola che in autunno perderemo un milione e mezzo di posti di lavoro, spero che non sia vero, ma ragazzi, il rischio è forte, soprattutto perché abbiamo 7,5 milioni di persone in Cassa Integrazione, e l'altra cosa fondamentale, che non vi racconta, ti vi dico, che su 7 milioni di persone in Cassa Integrazione, un milione non l'ha ancora una, e 4 milioni e mezzo l'hanno pagata le imprese, le aziende, la Cassa Integrazione, i propri dipendenti, e quindi sono buoni tutti a dire, tu paga, e poi dopo arriverà Babbo Morto, l'integrazione, stavete a vedere, questo è tutto sul sole, dell'Inps. Ultima cosa, l'arrampicata di Travaglio, che dice che Zagaria non rientra nel carcere di Sassari, e questo dimostra che buona fede, bravo. Vabbè, ragazzi, è un tale attorcigliamento del pensiero di Travaglio, che io vi consiglio, senza comprare il fatto ovviamente, di guardarvelo da qualche parte, perché è una cosa incredibile, cioè Zagaria esce da Sassari, insieme ad altri del 41 bis, e ad altri 500 persone, diciamo esattamente dopo che viene fatta una circolata, del ministero della giustizia, presieduto da, come si chiama, da Buona Fede, escono, Travaglio dice, non è colpa di Buona Fede, poi Buona Fede fa un decreto, che dice, devono rientrare tutti i cattivoni, e lì Travaglio dice, vedete che bravo Buona Fede, li fa rientrare tutti, poi i cattivoni non rientrano, e Travaglio dice, non rientrano, perché come Buona Fede non li ha fatti uscire, così non li poteva far rientrare. Io la trovo fantastica, con questa logica vale tutto, secondo me Travaglio un futuro ce l'ha, diventare dirigente di HBO, questa è la fine perfetta di Travaglio e della sua genia di politicamente corretti, quando Conte non ci sarà più, e quello non si potrà inventare, dopo Grillo, dopo Di Maio, e dopo Conte, un nuovo leader politico a cui reggere la sedia o la coda. Ciao!